Non riesco a responare Impedite agli americani di conquistare tutti i settori Andiamo su B1 Posizione rilevata Dai, avevo sparato pure io Cazzo, avevo sparato Il nemico sta attaccando, bravo 1 Ricarico l'arma Ok Impedite agli americani di conquistare tutti i settori Il nemico controlla l'intero settore eco Obiettivo alleato sotto attacco Grazie a tutti Allora, andiamo sempre qua Soccore attivato Sono dentro Abbiamo perso un obiettivo Prendete posizione Il nemico si è impadronito di un obiettivo Riassumetemi la situazione Oh Cazzo E che minchia Andiamo con i compagni Hanno il controllo del settore eco Sono dentro Le truppe americane ci sono impadronite di un obiettivo Proprio lì, andiamo Caricò un truyere Bravo Ho bisogno di scorte mediche Settore delta completamente sotto controllo Non mi serve aiuto Dai avanti Tranquillo che tirazzo No, ma quanti cazzo ce n'erano No, ma quanti cazzo ce n'erano Non mi serve aiuto Segue alla gira Discire la gira No, ma quanti cazzo ce n'erano Tocco No, ma quanti cazzo ce n'erano Non mi serve aiuto Non mi serve aiuto Doviamo Tutto No mi serve aiuto No mi serve aiuto Tutto Tutto Stiamo subendo trofe perdite. Tutto il settore Charlie è in mano al nemico. Impedite agli americani di conquistare tutti i settori. Stiamo attaccando l'obiettivo bravo 1. Sta ricaricando l'arma! Hanno appena preso il settore Delta. Ah, cazzo! Uno che mi aiuta? Non c'è. Sopra, sopra, sopra. Che incredibile. Alcune nostre truppe stanno puntando all'obiettivo bravo 2. Le nostre truppe hanno catturato bravo 2. Incredibile. Ciao, falce! Uh! Guarda se muore. Guarda se muore. Guarda! Guarda! Bravo! Navy City! Oh! Guarda! Oh! Guarda! 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 dietro come degli scemi come degli scemi ho abbattuto un nemico dove sono i medicinali ok ok dai che era quasi morto porca puttana dai dai un medico abbiamo il controllo dell'obiettivo bravo 1 ah niente andiamo laggiù sono dentro ci siamo hanno conquistato il settore no 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 fermo fermo un nemico nelle vicinazze uno l'ho preso uno l'ho preso ricarico gli alleati stanno pagando l'obiettivo bravo 1 abbiamo occupato un obiettivo stiamo subendo perdita lo stiamo stiamo perdendo stiamo perdendo come le necce hanno eliminato metà dei nostri rinforzi l'obiettivo bravo 1 non Pazzo K30 Questa da vicino Dai danni Dai Oh possibile Non riusciamo a prenderla Sta La bandiera Abbiamo preso il settore delta Controlliamo la maggior parte Dei settori sul campo Accetto alla rete Un obiettivo è soffro assedio Ci sono Cerco un'entrata Sì ci sono Ma cazzo Le nostre truppe hanno perso l'obiettivo Tutto bravo 1 Il nemico ha tutto il settore bravo Il nemico si è impadronito di un obiettivo Tutto bravo Ci stanno prendendo A Muoversi Il ragazzo sta sparando Aspettore Alpha in sicuro Caricò un Trojan Ci sono Massimo cautela qui 180 gradi 40 metri dalla mia posizione Eeeh non riesco mi ha ucciso il robottino bastardo bastardo esplosivo pronto uno dei nostri obiettivi è sotto attacco che bella estemina che bella estemina raggiungere il punto indicato dammi una mano obiettivo catturato dagli americani che liscio amoroso non viene nessuno parco pronto, chiamate se vi serve supporto l'obiettivo è Alfa 2, via con l'attacco porca troia oh ma non viene nessuno da ora qua niente, sta zona solo io ci sono proviamo a ritornare su A1 cazzo non l'avevo, mi sembrava girato mi sembrava girato stiamo attaccando Alfa 2 impedite agli americani di conquistare tutti i settori dovete raggiungere il segnale laggiù guarda dove cazzo era, guarda ho bisogno d'aiuto ah peccato mi sa che rinasco su di te controlliamo il settore bravo guarda la miseria ma dai e se ce la fai rialzarmi un cosmic i nemici controllano il settore Alfa andiamo laggiù gli americani non si arrendono schiacciateli hanno occupato il settore Charlie adesso il nemico sta attaccando bravo uno è preso anche questo il settore Alfa è nostro non possiamo combattere ancora abbiamo perso però l'abbiamo giocato le nostre truppe stanno assaltando bravo uno abbiamo preso il settore bravo un attimo sto ricaricando un attimo sto ricaricando oh peccato 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 ma possiamo sopportarla spettacolare vi siete sorpresi dodicesimi sette colpi alla testa io capito l'abbiamo raffa l'abbiamo l'abbiamo un attimo Grazie a tutti